Oggi in Pediatria il Lions Club di Crotone e Rallacinia presenta delle proposte e delle realizzazioni per i bambini. Sì, noi abbiamo pensato di creare all'interno di questo reparto una biblioteca e per questo come vedi ci sono i libri che abbiamo portato, abbiamo portato 150 volumi. La cosa bella è che alcuni di questi li abbiamo comprati, altri invece abbiamo chiesto ai nostri cuccioli più o meno grandi di regalare a questi bambini un libro che per loro aveva avuto un grande significato. E c'è stata veramente una gara, siamo arrivati a una ottantina, novantina di libri che loro ci hanno dati e poi i giocattoli, anche i giocattoli. Con i bambini faremo la banca del tempo, nel senso che 10 di noi volontari, di cui 7 soci e 3 mogli di soci, ogni lunedì e ogni venerdì nel pomeriggio saranno qui nel reparto per fare compagnia ai bambini, per farli leggere, per farli scrivere, per farli giocare. E questo perché essere Lions significa uscire da se stessi e andare ad aiutare chi ha problemi, chi è escluso, chi è emarginato. La malattia dei bambini in realtà è un'ingiustizia purtroppo e non possiamo fare niente, però possiamo dare un conforto, possiamo farli sorridere questi bambini. Più tardi con loro faremo anche uno spettacolo di marionette in modo da allontanare per quanto più è possibile da loro il tempo del dolore. Dottore, Help to You è una bella iniziativa. Assolutamente, è un'iniziativa da replicare perché riguarda i bambini, riguarda il mondo dei bambini, sostanzialmente vengono donati dei libri, una piccola biblioteca che soprattutto verrà incrementata nel tempo per favorire la lettura nel bambino. La lettura nel bambino è un precesso assolutamente indispensabile per la crescita psicofisica del bambino. Pensate che oggi si è visto che leggere ad alta voce a un bambino piccolo anche dai sei mesi in poi favorisce la vita relazionale, favorisce l'apprendimento, favorisce anche il quotiente intellettivo che è più alta all'età scolare. Quindi qualunque iniziativa che va in questo senso, soprattutto la lettura da parte dei genitori, è assolutamente da incentivare. Io ringrazio i Lions che hanno avuto questa pregevole iniziativa che viene appunto nell'interesse della salute del bambino. Importante anche la banca del tempo. Assolutamente, è un fatto che va tutto in questa direzione e noi li ringraziamo di questo. Grazie per la visione.